Le temperature parlano chiaro e non smentiscono le previsioni meteo. Sul Piemonte è arrivata aria gelida proveniente dalla Scandinavia che ha causato un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni diffuse su tutta la regione. Neve d'aprile anche a bassa quota in diverse località del Piemonte. Per l'ARPA è allerta gialla nella zona sudorientale, dove pioggia e vento possono causare caduta di rami e disagi alla mobilità e ai servizi. Tra Cunese, Basso Astigiano e Basso Alessandrino nevica dai 350 a 500 metri di quota, mentre è segnalata pioggia mista a neve sulle colline del Po e di Torino, tra Pino e Superga. Esultano le località sciistiche che possono prolungare ancora una stagione iniziata in ritardo. Qui vediamo le suggestive immagini di Prali, in Valchisone, dove nelle ultime ore sono caduti almeno 20 cm di neve e Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, incorniciata da un suggestivo manto bianco. La situazione evolverà lentamente nei prossimi giorni, con una graduale attenuazione dell'instabilità e fenomeni più deboli, sparsi e intermittenti. Anche la quota neve sarà in graduale rialzo verso i 1000 metri e le correnti fredde si muoveranno verso l'Italia centrale, riportando il cielo soleggiato per la giornata di festa del 25 aprile. La colonnina di Mercurio, però, resta inferiore alla media, con temperature minime sotto i 10 gradi.